Sentirò i miei contatti. Se viene fuori qualcosa, sarà la prima a saperlo. Molto bene. Parlavo con l'agente Bly. Che c'è? Hai dato a James Bond il tuo numero? Solo per motivi di lavoro. Quando iniziarono Callen e Sam a fidarsi l'uno dell'altro? Ah, il primo gennaio del 2007. Che cosa accadde? Erano diventati partner da un mese e non funzionava un granché. Fra loro non c'era alcuna intesa. Callen andò sotto copertura a incontrare la mafia armena. Ma Sam, rimasto fuori come rinforzo, si accorse che il suo nuovo compagno si trovava in netto svantaggio. Decise quindi di avvicinarsi, ma venne preso da una sentinella. Sam venne trascinato davanti a Callen. Il boss mafioso diede a Callen un'arma e gli disse che doveva provargli la sua lealtà o li avrebbe fatti uccidere entrambi. Callen puntò la pistola alla testa di Sam e premette il grilletto. La pistola sparò a vuoto. Era scarica. Così se la cavarono e risolsero il caso. E solo in seguito Callen disse che aveva capito che l'arma era scarica perché pesava di meno. E Sam gli credette? Altrimenti perché Callen avrebbe premuto il grilletto? Fu un bel letto di fede. Di fiducia.